seni cadenti la prostituta aveva i seni cadenti lo stomaco prominente e i fianchi massicci era un insulto alle forme femminili quali l'uomo le ha sempre immaginate ma mi accinsi a ritrarla con la massima attenzione un mio allievo bisbigliò per non farsi udire dalla modella esatto è un corpo femminile senza vita cercherò di disegnare quello che sento dissi no maestro quello che vedi mi corresse l'allievo no quello che sento lo corressi a mia volta le linee della modella mi apparivano tutte confuse eppure le dipinsi ispirandomi a ciò che sapevo di lei la conoscevo da trent'anni da quando fresco studente di liceo il mio corpo fisico urlava per il bisogno di sesso camminai per tor di quinto e la vidi allora aveva vent'anni evacuai dentro di lei il mio seme bollente quando stavo per pagarla con i pochi soldi che avevo lei mi disse no non voglio nulla a distanza di trent'anni ordinai alla mia modella di riposarsi lei si sedette si coprì le spalle con un mantello umilmente durante l'intervallo il mio allievo mi disse la tua modella è grassa maestro io invece ti consiglierei di prenderla come tua modella quando ne avrai bisogno ma perché è una perdita di tempo disegnare una modella simile preferirò dipingere a memoria io invece preferisco dipingere chi è stata una persona sempre buona pur facendo la prostituta dissi e in quel momento mi sentì immerso senza nessuna separazione senza nessun pregiudizio nella scena che mi rappresentava con la prostituta con l'allievo ecco i pennelli